Raffaele Notonè, immagino che avessi tanta curiosità nell'inizio la stagione per vedere la reazione di questa gamba, di questo ginocchio. Beh sì, un po' di preoccupazione c'è stata all'inizio del ritiro. Ora è dall'inizio che comunque ho superato tutti i test, ho lavorato con la squadra e anche mentalmente sto molto bene, quindi lavoro e cerco di tornare come prima. C'è un'altra cosa che noi abbiamo sentito dalla partita di venerdì scorso, effettivamente nei contrasti non mi sembravi timoroso, non è prima dell'incidente. No, beh, quando poi ci sta una partita mentalmente non è che ci pensi tanto, quindi cerchi sempre di essere quello normale, ogni tanto ti capita di pensarci però passa subito perché c'è la partita a livello agonistico, quindi ti passa e vai avanti. Tra le altre cose, l'affetto dei tifosi ternani viene strinsecato attraverso i social network, sei uno dei più gettonati, uno dei più fotografati, uno dei più messi in risalto. Beh, sicuramente. E sono stati vicini in questo momento particolarmente difficile. Fa molto piacere, infatti quando mi sono fatto male ho avuto delle situazioni che mi hanno dato una forza in più, ho trovato dei fogliettini fuori casa, dei messaggi sul telefonino che comunque fa piacere e ti dà quella forza in più per tornare come prima. Senti, non so se sia poi la decisione definitiva perché questo sarà il campo, credo a dirlo, si parla di un no-lettre quartista, contento, soddisfatto, è un ruolo che ti piace oppure che altro? Beh, io qualche anno fa, cinque o sei anni fa facevo la seconda punta, giocavo dietro le punte. Da un po' di anni che stavo giocando sull'esterno, però è un ruolo che bene o male l'ho fatto. A me piace, sicuramente dobbiamo migliorare dei movimenti perché è un modulo nuovo, però sicuramente a me piace. Poi tra le altre cose un trequartista con, non facciamo né graduatori, li citiamo così come ci vengono in mente, Ceravolo, Tenucci, Litteri, Alfacheme, non so se dimentico qualcuno, spero di no, diventa estremamente appagante perché hai davanti giocatori che veramente possono fare la differenza con un tuo assist. Beh sì, sono giocatori di categoria che comunque in categoria sono conosciuti, sappiamo tutti il loro valore. Io farò il massimo per dargli una palla buona, interessante, loro sicuramente finalizzano al massimo e sarà così. Stamattina è un allenamento duro, molto intenso, eravate abbastanza provati alla fine. Beh, è dal primo giorno che sono allenamenti abbastanza duri, però sappiamo che ci servono per questo anno, che conosciamo tutti, la Serie B è molto faticosa, quindi bisogna mettere delle basi molto forti. Lo stiamo facendo e continuiamo così. Un saluto ai tifosi Ternani? Un saluto da Raffaele Nole, sta tornando come prima e spera di fare più presto un inchino sotto la curva. Grazie. Ciao.